Ben ritrovati amici di Gilda TV. È in arrivo a tutti gli iscritti Gilda il numero di novembre di professione docente, la rivista bimestrale diretta da Renza Bertuzzi. La lettura può essere fatta anche online sul sito gildains.it. Quali sono gli argomenti contenuti in questo nuovo numero? Inizierei soffermandomi sui temi sindacali trattati dalla rivista alla luce di un varlume di normalità come scrive Renza Bertuzzi a pagina 2. A pagina 3 Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda, sottolinea l'importanza delle elezioni delle RSU del 2022. L'appuntamento con queste votazioni è importante perché, scrive Di Meglio, le RSU Gilda non solo costituiscono la prima linea di tutela professionale dei colleghi ma sono anche una difesa del ruolo istituzionale dei docenti. Le priorità di politica scolastica del Ministero della pubblica istruzione del Governo sono il campo di indagine di Gianluigi Dotti e Fabrizio Rebeshek, con l'analisi di Dotti a pagina 6 dell'atto di indirizzo del Ministro Bianchi e la mancanza di risorse per l'incremento stipendiale degli insegnanti nei fondi per la scuola del PNRR messa in luce da Rebeshek nell'articolo a pagina 7. Un altro tema sempre di attualità sindacale che troviamo sulla rivista è la questione del precariato docente. Lo affronta con tre articoli a pagina 8, 9 e 10 Antonio Antonazzo, dimostrando che la presenza del precariato è un problema mai risolto, anzi aggravato negli ultimi anni dall'adozione da parte del Ministero di algoritmi pieni di errori ed incongruenze. A chi è prossimo alla pensione potrà interessare l'articolo a pagina 23 di Rosario Cutrupia e la sua guida per orientarsi nei complessi calcoli per l'opzione interamente contributiva. Se vi è sfuggito il convegno nazionale della GIDA del 5 ottobre in occasione della giornata mondiale dell'insegnante dal titolo Il lungo addio della scuola istituzione, cui prodest, nelle pagine 12-13 ci ha reso conto di Esther Trevisan, oppure su Gilda TV lo streaming dei lavori del convegno. Salvaguardare il diritto all'istruzione e alla salute dei giovani ricoverati negli ospedali è l'obiettivo di docenti volontari che, con il loro impegno, riescono a regalare a questi studenti momenti di svago e normalità. L'articolo a pagina 22 è di Esther Trevisan. Per i temi culturali vi segnalo, a pagina 14-15, la recensione del libro di Giulio Ferroni, una scuola per il futuro a cura di Giovanni Carosotti. A pagina 16-17-18, l'articolo di Piero Morpurgo, 1944-46, Guido Castelnuovo e il partito d'azione, sognano la scuola nuova e in più la presentazione di documenti inediti dall'archivo Castelnuovo. I suggerimenti per coltivare l'attenzione di Roberto Casati, a pagina 18-19. Le riflessioni sulla progressiva compressione delle libertà dell'insegnante a favore di una sempre più pervasiva standardizzazione collegiale di Alberto Dainese, a pagina 11. La pandemia come occasione per promuovere una campagna di denigrazione dei docenti e di tutto il personale della scuola, a pagina 4-5 di Francesco Pallante. L'esame della situazione pandemica nei paesi che hanno portato avanti una politica negazionista a cura di Fabrizio Tonello, a pagina 20, e l'attenzione alla preoccupazione dei giovani per il clima di Marco Morini, a pagina 21. La rivista si chiude suggerendo un viaggio culturale a Palazzo Farnese di Caprarola. L'articolo a pagina 24 è di Massimo Quintiliani. In allegato alla rivista un volantino dedicato ai docenti che intendono candidarsi alle lezioni RSU per la lista Gilda Unams da distribuire in tutte le scuole. E con questo è tutto, buona lettura e se avete gradito questa presentazione mettete mi piace e iscrivetevi al canale. A presto!